Musica Si è spento a 70 anni l'imprenditore napoletano Ciro Di Natale. Negli anni 70 aveva dato vita al brand Camomile, marchio di abbigliamento femminile, accessori poi conosciuti in tutta Italia. E non solo Di Natale era noto anche perché sul finire ancora degli anni 70, insieme ad un'accordata di imprenditori aveva dato vita alla Galleria Scarlatti, centro commerciale nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Oltre ai successi come imprenditore, Ciro Di Natale aveva anche una grande passione per la musica, passione che si esplicitò nella seconda metà degli anni 70 nel suo ingresso nei tops band della scena beat partenopea nella quale Di Natale suonava la batteria. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS